Il presidente del fondo Comuni Confinanti Dario Bond si scaglia contro l'idea messa nero su bianco dalla regione di finanziare la gestione postolimpica della pista da Bob di Cortina con le risorse derivanti dagli FCC. Per 20 anni infatti si intenderebbe sfruttare il fondo per mantenere il buon funzionamento della struttura al momento ancora in costruzione. Bond ha scoperto lo schema di accordo dai giornali e ha subito sottolineato come questa operazione tradisca lo spirito del fondo. Quelle spese lì che vengono imputate sono spese correnti, sono spese che noi non possiamo pagare come fondo perché quando è arrivata la questione del abbattimento dei costi degli abbonamenti dei trasporti per i ragazzi è lì uscito il problema. Le spese di manutenzione in questo caso se non sono straordinarie, cioè se non cade un albero sulla pista da Bobbo o altre cose, o una frana, sono tutte spese di manutenzione ordinaria. Le spese di manutenzione ordinaria non sono pagabili perché sono spese correnti e quindi bisogna andare in Parlamento e cambiare praticamente le regole del fondo. Ma come può accadere una cosa del genere senza che il presidente del fondo sappia nulla e alla fine ci si trova uno delibera, un accordo da deliberare e da approvare da parte dell'amministrazione provinciale e di altri enti interessati. Nell'accordo non si parla di soldi ma le stime indicano un affare da 30 milioni di euro. Da parte di Bond il timore è che la partita sia ben lungi dall'essere chiusa. Io non ho l'ascia di guerra, capisco le questioni e capisco purtroppo anche il Comune di Cortina che deve evitare di trovarsi un debito per 20 anni successivo, però bisogna sempre fare le cose con ragione, con testa, con buon senso. Io sono per collaborare, per guardarsi in faccia, non per fare i blitz che alla fine non portano nulla perché adesso si tirerà su un muro forte e ci sarà una sorta di braccio di ferro che non porta beneficio a nessuno.